Se come immagino ti è capitato di aprire i social nelle ultime 12 ore, probabilmente avrai già visto centinaia di meme sulle faccette della premier Giorgia Meloni al summit del G7. Nel corso di questo video andremo a esaminare queste fotografie e parlerò di un paio di aspetti che sono sottesi di cui in pochi forse nessuno sta parlando, ma che secondo me sono abbastanza importanti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia, non di politica, quindi il video di oggi è un po' anomalo. Però siccome la fotografia rientra di fatto in tutti gli aspetti della nostra vita, compresi quelli politici, trovo giusto fare questo contenuto per esaminare dal punto di vista fotografico, quindi assolutamente non politico, quello che è successo nelle scorse ore. Prima di cominciare vi invito come sempre a iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto. In questo modo non solo rimanete sempre aggiornati sul mondo della fotografia, del video editing e del design, ma evitate anche di farvi fotografare con delle faccette strane. Dunque vado a riassumere grosso modo i fatti che hanno portato alla grandissima diffusione di questi meme, senza andare a citare le implicazioni politiche, perché francamente non è il mio campo e non ho nessuna intenzione di trattarle qui. Sta di fatto che durante il summit la premier Giorgia Meloni viene fotografata come tutti, perché lì ci saranno stati diversi fotografi che fotografavano tutti i capi di stato. Ecco però che le fotografie che escono, che ritraggono la premier Giorgia Meloni, sono, come posso dire, un po' particolari, nel senso che la ritraggono in momenti abbastanza particolari, con delle faccette che hanno suscita, sono appunto state chiamate le faccette di Giorgia Meloni al G7, se lo cercate su Google le trovate, potete andare a vederne di più di quelle che vi mostro io oggi. Sono particolarmente esilaranti, sono il primo ad ammetterlo. Ora, gli aspetti su cui voglio soffermarmi io nel corso di questo video sono due, ma me ne è venuto fuori un terzo, che ve lo metto per primo perché è divertente. Ci avete mai fatto caso che quando cercate fotografie di personaggi esponenti della politica, le trovate sempre e solo in qualità infima? Io faccio un appello a tutti i governi del mondo, a tutte le testate giornalistiche del mondo, a tutti i portali di informazione del mondo. Ragazzi, spendete mezzo kilobyte per caricare le fotografie in alta risoluzione, non dico da stampa, ma quantomeno che siano fruibili a monitor, perché quando io vado a cercare la fotografia del Papa, del Presidente Biden o di Giorgia Meloni e trovo solo dei francobolli grandi così è una cosa che francamente mi fa venire un gran nervoso. Detto questo però, andiamo a soffermarci su due aspetti. Il primo, che forse è un pochino quello più divertente, e il secondo invece che è quello un po' più serio e che quindi lasceremo nella seconda parte del video. Primo aspetto, e vi faccio un esempio, la prendo un po' alla larga per farvelo capire. Il primo aspetto è quello dell'effetto Hawthorne. Si tratta di quella particolare situazione in cui la nostra osservazione di un fenomeno modifica il fenomeno stesso. Vi faccio, come promesso, un esempio per farvelo capire subito. Quel giorno, la zia Ernesta, avendo bevuto sei o sette bicchieri di vino, era particolarmente gioviale, aveva proprio un bel sorriso, e allora abbiamo deciso di tirare fuori la nostra macchina fotografica con il 70-200 per farle un bel ritratto. La zia Ernesta, appena si vede puntato contro quel bazooka, prima stava ridendo, si stava sganasciando, ecco che si irrigidisce. Esempio perfetto di effetto Hawthorne. Praticamente la nostra osservazione, la nostra interazione con il fenomeno lo ha modificato. Ora, molti di voi non avranno la fortuna di avere la zia Ernesta che abita vicino e quindi non potranno fare questo esperimento, però se vi capita magari di avere un cane o un bambino, provate a fare questo esperimento col vostro cane o col vostro bambino, non dovete neanche scattarla davvero la foto, non vi sto dicendo di sfruttare l'immagine dei vostri figli sui social. Non dovete scattarla davvero, dovete solo provare a puntargli contro qualcosa. Vedrete che se dapprima si stava divertendo, improvvisamente quando gli puntate contro qualcosa, rimangono un attimo interdetti perché dicono, cosa fai? Cosa stai facendo? Cos'è quella roba che mi punti contro? Magari se il bambino è piccolo o se si tratta di un animale non hanno nemmeno la concezione di che cosa sia una fotografia, non capiscono cosa sta succedendo, ma il fatto che gli punti contro qualcosa istintivamente non gli piace. Ecco però che nel caso di Giorgia Meloni, e questo è stato detto da qualcuno e mi dispiace, io non cito, ma quando mi capita di leggere degli articoli poi mi rimane il concetto, ma non è che mi ricordo dove l'ho letto. Per cui mi scuso di questo, non ho né link né credit da dare a nessuno, però mi ricordo di aver letto quest'articolo, secondo il quale nel caso dei personaggi politici di Giorgia Meloni in particolare, si parla sì di effetto Hawthorne, ma non nello stesso modo in cui l'abbiamo visto con la zia Ernesta, ovvero l'effetto Hawthorne della zia Ernesta è genuino e autentico, perché nel momento in cui siamo in casa con la zia Ernesta che ha cucinato l'insalata di riso e la si sta mangiando, quando le punti contro una macchina fotografica la sua reazione è genuina, improvvisamente si rigidisce perché dice, oh cavolo, ho bevuto troppo, mi sto lasciando andare, adesso mi fanno la foto, poi mi prendono in giro, quindi la sua reazione è assolutamente autentica. Nel caso di personaggi politici, dobbiamo innanzitutto presumere che loro siano costantemente in effetto Hawthorne, perché loro sono consapevoli di essere filmati e fotografati giorno e notte, per cui le loro reazioni non sono genuine, nella maggior parte dei casi le loro reazioni sono studiate a tavolino, e proprio di questo si parlava. Il dubbio che viene legittimamente instillato è questo, le faccette di Giorgia Meloni sono genuine o sono studiate a tavolino, o meglio, per prenderla ancora più larga, Giorgia Meloni quando fa quelle faccette è sincera, nel senso si comporta così perché quelle sono veramente le emozioni che prova, oppure lo sta facendo a favore di camera perché sa che la stanno fotografando, oppure lo sta facendo per il personaggio politico che sta incontrando, gli sta lanciando dei messaggi subliminali. Questa è la domanda molto interessante. Quindi qui non siamo in presenza solamente di una modificazione del comportamento dovuta a un osservatore esterno, che in questo caso era il fotografo, ma addirittura ci sono più livelli, nel senso che potremmo essere in presenza di un'alterazione del comportamento dovuta al fotografo, quindi la persona sta cambiando atteggiamento perché sa di essere fotografata, ma sta anche tenendo conto di essere in presenza di una terza persona. Quindi capite che la cosa è veramente complessa e non è facile da andare a analizzare, soprattutto da delle foto, perché nel momento in cui si analizzano microespressioni e macroespressioni è molto importante la durata. Mi sono studiato l'argomento, non è che sono esperto di queste cose, l'ho letto in quest'articolo di cui vi parlavo all'inizio, e pare che nel momento in cui io ho delle espressioni che durano un certo tot di tempo, possono essere genuine, mentre se durano più di quel tot di tempo probabilmente sono studiate. Questo è molto interessante, perché capovolgerebbe tutta la narrativa che c'è stata dietro ai meme su queste faccette. Quindi Giorgia Meloni ha fatto delle facce che potevano essere considerate anche un po' fuori luogo, oppure c'era una strategia ben precisa dietro. Io questo l'ho trovato molto interessante e sono incuriosito da questa cosa, quindi cercherò di approfondirla nei prossimi giorni. Non dico che vi farò un altro video perché magari non scopro niente, però l'ho trovato molto interessante. Veniamo alla seconda parte di questo contenuto, ovvero quello che riguarda la deontologia di questo mestiere. Allora, anche qui prendo il discorso un pochettino alla larga per farvi capire il mio punto di vista. Io ho cominciato il mio percorso lavorativo nelle redazioni dei giornali, nel senso che io ho lavorato per delle riviste all'inizio della mia carriera e non sono mai stato giornalista, ci ho anche provato a diventare pubblicista, ma all'epoca era difficile e proprio qui vado a parare. Io ho avuto modo di parlare e lavorare con dei giornalisti di 30, 40, 50 anni fa e vedo la differenza con quelli di oggi. Non per sminuire quelli di oggi perché ce n'è di bravi anche oggi, assolutamente, ci sono i giornalisti bravi anche oggi, però oggi il mestiere ha subito dei contraccolpi, nel senso che se una volta bisognava sostenere un esame di Stato che costava anche un casino di soldi, quindi in pratica se volevi fare il giornalista dovevi essere ricco, dovevi far parte della classe ambiente perché dovevi poterti permettere le scuole migliori e poi di poter sostenere un esame lungo e costoso per accedere alla professione. Oggi questa cosa viene un po' bypassata perché ormai nelle redazioni dei giornali, i giornali non li legge più nessuno e quindi nei giornali si prendono influencer a scrivere che tanto va bene lo stesso e anzi meglio, se prendi un influencer a scrivere per una redazione, per una websyn o per un giornale, bypassi un sacco di sistemi, di regolamenti e la gente magari ti segue un po' di più perché hai messo dentro il personaggetto famoso. Tant'è che poi, e anche qui non punto il dito contro nessuno, però poi abbiamo lo sbarco in Lombardia e nessuno dice niente. Insomma diciamo che la professione si è un po' svalutata. Una volta, quando tu andavi a fare il giornalista, c'era un esame che non serviva a vedere se tu sapevi usare correttamente l'accento acuto e l'accento grave. Quello veniva dato per scontato. Ah, per giunta, oggi nessuno sa più usare nemmeno l'accento acuto e l'accento grave. Di solito si usa l'apostrofo in sostituzione di entrambi e va bene così. E a me questa cosa fa veramente orrore, avendo appunto lavorato per delle case editrici e per delle redazioni di giornale. Detto questo però, passiamo alla parte fotografica. La deontologia della professione dovrebbe esserci anche in fotografia. Quindi così come un giornalista dovrebbe aver sostenuto degli esami e quindi dovrebbe conoscere le regole del gioco in maniera tale da non essere denunciato quel relato se scrive una cosa non vera o se scrive una cosa senza le prove. Allo stesso modo un fotografo dovrebbe sapere che ci sono delle regole che non sono di buon senso, sono proprio di etica professionale. Ora, queste regole dicono per esempio che nel momento in cui io sto fotografando una persona e può essere una festa di compleanno, può essere un concerto, può essere un backstage di un film, qualsiasi cosa, può essere una sessione privata di ritratto, non importa che cosa sia. Nel momento in cui io sono chiamato a fotografare una persona, io in qualche maniera sono custode della sua immagine. Questo che cosa significa? Significa che se io sono andato al Festival del Cinema di Venezia e sto fotografando Jennifer Lopez che sta per scendere dal motoscafo, eccetera, eccetera, la scena la conoscete, se becco un momento in cui Jennifer Lopez si sta infilando un dito nel naso, probabilmente è mio dovere in quanto fotografo di quel momento, in quanto custode dell'immagine di un artista che è lì per presentare qualcosa, un film, una canzone, non lo so, non ha importanza, è mio dovere in quanto custode della sua immagine non pubblicarla, quella immagine, non mandarla neanche in giro a nessuno, perché quell'immagine è irrilevante, non aggiunge niente, si presterebbe solamente alla creazione di meme, per carità, molto divertenti, però andrebbe a svilire quella che è l'immagine della persona ritratta e il lavoro anche potenzialmente che questa persona ha realizzato, nonché ovviamente il momento a cui era andata a presenziare. Quindi ci ricordiamo tutti del Festival di Venezia perché Jennifer Lopez si è messa il dito nel naso. Ovviamente non è mai successo, per fortuna Jennifer Lopez non è mai stata fotografata col dito nel naso, quindi è solo un esempio. Ecco però che qui di nuovo, e badate bene, io qui mi trovo con un dubbio, ho un dubbio, e credo di avere intimamente la risposta, però ho il dubbio, e quindi chiedo anche a voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa vicenda, e badate bene, secondo me è molto importante avere dei dubbi nella vita. Io ho sinceramente paura di chi non ama i dubbi, perché chi non ama i dubbi crede di essere nel giusto e di camminare nella luce e di essere illuminato dal Signore Onnipotente e di aver ragione solo lui, mentre io mantengo e tengo stretti i miei dubbi sacrosanti. Dunque il mio dubbio qual è? Da un lato, eticamente, se io mi trovo a realizzare delle fotografie di un capo di stato e lo becco in un momento poco felice, con una faccia un po' buffa, istintivamente sarei portato a dire vabbè questa la scartiamo, ed è quello che faccio io quando lavoro normalmente, io non fotografo capi di stato, fotografo per lo più dei ritrovi corporate aziendali, se becco il CEO di un'azienda che si sta mettendo il dito nel naso, quella foto non gliela mando neanche, viene cancellata senza pietà, e non la mando in giro ai colleghi facendo il ganassa, perché se finisce in rete poi è responsabilità mia. Quindi questo è un conto. Ecco però che nel momento in cui fotografiamo un summit con dei capi di stato, la faccenda secondo me è un po' diversa. E questo non solo, badate bene, non solo per la mia naturale propensione ad accettare che un politico, un capo di stato, in virtù anche del suo altissimo emonumento, debba, debba, ripeto, debba avere le spalle abbastanza larghe da sopportare un po' di satira e un po' di prese in giro. Non è solo per questo. Bensì è anche perché nel momento in cui escono delle foto che rappresentano un capo di stato in un certo modo, questo può rientrare nel diritto di cronaca. Ovvero, mi spiego meglio, se ci fosse una foto della Meloni in una posa infelice, chiamiamola così, in una posa che può prestarsi a un'interpretazione che sfocia nel ridicolo, se ce ne fosse una, io lì direi, secondo me ha sbagliato il fotografo perché probabilmente poteva non tirarla fuori quella foto, poteva pubblicare solo quelle istituzionali dove era venuta bene, dove era venuta patinata. Ecco però che nel momento in cui vediamo che c'è una serie di immagini, io qui posso fare una serie di ipotesi. I fotografi scattavano a raffica, prendevano qualsiasi cosa e quindi hanno catturato anche dei momenti che potremmo definire un po' infelici. Oppure, c'è una seconda ipotesi, oppure l'intero summit è stato caratterizzato da un costante teatrino di pose che potremmo definire un po' ridicole, un po' infelici. Secondo me sono queste due le possibilità. E per esserne uscite così tante, io qui devo supporre o che ci sia in atto un'operazione di affossamento dell'immagine del governo italiano, perché magari in Europa qualcuno non è contento del fatto che il governo di Giorgia Meloni sia uscito lievemente rafforzato dalle ultime elezioni. Quindi questa può essere un'ipotesi. Hanno detto, ok, Giorgia Meloni arriva qui, tronfia perché le elezioni europee le sono andate bene, quindi viene qui a fare la voce grossa. Adesso la affossiamo subito pubblicando una serie di scatti ridicoli, così si parlerà solo di quello e la sua vittoria passa in sordina. Questa è un'ipotesi che ovviamente non è da scartare. La seconda ipotesi è che le sue faccette siano state così protratte nel tempo e così caratterizzanti dell'evento che i fotografi che hanno ripreso la scena non abbiano potuto esimersi dal pubblicarle perché se quel teatrino diventa caratterizzante dell'evento, diventa un momento proprio riconoscibile, tangibile, che tutti si ricordano, ecco che quelle foto vanno a pieno titolo sotto il diritto di cronaca. Qual è la verità tra queste due? Come detto, ragazzi, io non ho certezze, innanzitutto io non c'ero e quindi io non lo so. Diciamo che secondo me la cosa più saggia in questi frangenti è rimanere con il sano scetticismo e con un po' di dubbio perché secondo me la verità sta esattamente a metà tra queste due opzioni. A questo punto io vi chiedo, fatemi sapere in un commento se questo tipo di argomento e di analisi vi può interessare perché ci sono un sacco di contesti in cui si potrebbe andare a parlare delle fotografie che caratterizzano la comunicazione di determinati avvenimenti. Se questa è una cosa che vi può interessare e guardate è interessante anche per me perché vedere come sono realizzate queste immagini come vengono comunicate le notizie è importantissimo per me perché stiamo parlando di professionisti di livello alto quelli che vanno a fare queste fotografie sono professionisti bravi che vengono scelti per la loro precisione per la loro impeccabilità quindi secondo me è difficile che queste foto siano uscite per sbaglio ed è difficile che non siano state scartate per sbaglio ed è interessante appunto esaminare le scelte che vengono fatte quando vengono fotografati eventi di questo tipo e andare poi ad analizzare anche come vengono selezionate le fotografie che vengono usate per veicolare un determinato contenuto io lo trovo affascinante fatemi sapere in un commento se è una cosa che vi può interessare vi invito ovviamente a iscrivervi al canale così non vi perdete prossimi contenuti su quest'argomento oppure la serie sul flash oppure la serie sull'entry level che stiamo facendo in questi giorni è pieno di argomenti che escono e che continueranno a uscire inoltre io sovente rispondo ai vostri commenti più interessanti con degli shorts in formato verticale quindi se vi iscrivete non andate a perdervi tutti questi contenuti come sempre io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video un po' del vostro tempo Grazie a tutti